Grazie a tutti. Per la camorra napoletana c'è soltanto una cosa che non ha valore e che vale pochissimo, è la vita umana. L'insuccesso di Napoli come città moderna. Mi hanno spagato anche il mio figlio. Non c'è neanche un obiettivo preciso ma è il mitragliare all'impazzata tra la gente come in tantissimi casi. Io faccio sempre lo stesso esempio, è ground zero. Per noi è stato ground zero, come le torri gemelle, tutto distrutto, tutto completamente. Non è crollato un piano, non è crollato un grattaciclo. È tutta la zona che è disastrata. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.